Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Juventus-Roma L'ultima volta in cui abbiamo affrontato la Roma è stata due settimane fa all'Olimpico Abbiamo vinto 2-1 Stasera giochiamo in casa, cioè allo Juventus Stadium E speriamo che vinciamo questa partita Non è neanche il campionato, è Coppa Italia Una coppa che praticamente ci ha spostato un po' di sfortuna nell'ultimo anno Perdendo 2-1, 3-0 contro l'Atalanta Speriamo di mettere questo risultato alle spalle e cercare di vincere stasera in casa contro la Roma Comunque, io penso che finisca 1-0 Juve Penso che segni Ronaldo nel secondo tempo al 60esimo con colpo di testa Comunque, se c'è giù i vostri commenti su come finirà questa partita Speriamo, io sono fiducioso che stasera la Juventus possa vincere Ci abbiamo sempre fatto contro la Roma allo Juventus Stadium Sì, all'Olimpico è difficile, però se l'abbiamo fatto all'Olimpico possiamo farlo pure allo Juventus Stadium Ma abbiamo battuto l'Udinese 4-0 Se giochiamo in quel modo non vedo perché non dovremmo vincere L'unico uomo da marcare è un Der che è abbastanza forte dalla Roma Però se ci mettiamo a posto e lo marchiamo per bene Non vedo perché non dovrebbe segnare Speriamo che qui non segni, però la chance che segni è molto alta Però farò sempre per 1-0 Comunque, il video 5 di qui Cazzo mi guardato, porci qui sempre Speriamo di passare questo turno difficile contro la Roma Ciao